Il lavoro d'inverno mi assorbe parecchio perché mi piace anche, mi appassiona. Faccio l'insegnante, vado a scuola e quindi d'inverno sono veramente impegnata, dalla mattina presto anche fino alla sera. Non ho impegni familiari, sono single, ho 54 anni. Basta accendere la televisione per sentirsi offese come donna. Però un'immagine particolare che mi ha colpito è stata quella in un reparto di ginecologia ostetricia, dove sono andata qualche tempo fa a trovare una mia amica, di un grande manifesto con una donna incinta e il feto dentro la sua pancia presentato come una persona. Non sono madre, ma anche di più questa immagine mi ha offeso. Desideri ce ne sono tanti, in ogni momento della vita diversi. Un desiderio profondo è chiaramente stare bene, ma stare bene con gli altri non si può stare bene da soli. La prima cosa che chiederei a una donna che accede al governo del paese è di portare se stessa nel lavoro che fa, di non adeguarsi al sistema, ma di portare veramente se stessa dalle piccole cose alle grandi e quindi di trasformarlo il sistema.